Benvenuti in Fabergé. Fabergé è un marchio di orologi di lusso fondato nel 1842 dal gioielliere russo Peter Karl Fabergé. L'azienda è famosa soprattutto per le sue uova di Fabergé, gioielli unici e pregiati, realizzati per la famiglia imperiale russa. Dopo una pausa di circa 90 anni, nel 2007 il marchio Fabergé è stato riportato in vita dall'azienda francese The House of Fabergé, con l'obiettivo di creare una collezione di orologi di alta gamma per il mercato globale. La collezione di orologi Fabergé si ispira alla tradizione artigianale e alla storia del marchio, e si distingue per l'uso di materiali pregiati, come l'oro, i diamanti e le pietre preziose. Gli orologi Fabergé sono caratterizzati da un design elegante e raffinato, con un'attenzione particolare ai dettagli e alla qualità dei materiali utilizzati. Ogni modello Fabergé è dotato di movimenti meccanici di alta precisione e di funzionalità avanzate, come il cronografo e il fuso orario. Tra i modelli più noti di Fabergé vi sono il Visionnaire Cronograph, il Visionnaire DTZ e il Visionnaire 1, tutti caratterizzati da un design unico e innovativo. I materiali utilizzati da Fabergé sono di altissima qualità, come l'oro, i diamanti e le pietre preziose, ma l'azienda si impegna sempre di più a utilizzare materiali ecologici come il legno riciclato, la ceramica, il titanio e il carbonio. Questo dimostra l'attenzione di Fabergé per la sostenibilità ambientale e la riduzione dell'impatto ambientale. Inoltre, Fabergé adotta pratiche produttive a basso impatto ambientale, come la riduzione degli sprechi di energia e l'uso di tecnologie avanzate per la produzione degli orologi. La filosofia di Fabergé è quella di unire la tradizione artigianale con l'innovazione tecnologica, creando orologi di lusso unici e pregiati che si distinguono per la loro eleganza e raffinatezza. Ogni orologio Fabergé è realizzato con cura artigianale e attenzione ai dettagli, garantendo la massima qualità e precisione. In sintesi, se siete alla ricerca di un orologio di lusso unico e pregiato, gli orologi Fabergé sono sicuramente un'ottima scelta. La combinazione di tradizione artigianale, innovazione tecnologica, attenzione ai dettagli e sostenibilità ambientale rende Fabergé uno dei marchi di orologi di lusso più interessanti e distintivi del mercato globale.